Le nostre felpe 50-50 poliestere e cotone soddisfano molte esigenze, dal funzionale al moderno, dal classico al capo di moda. In comune hanno la robustezza e la lunga durata del materiale, per una qualità che resiste nel tempo, ottimo comfort ed eccezionale valore. La felpa A762 Manica Raglan è il vero classico della gamma. Nel 2009 la A762 è stata notevolmente aggiornata, con importanti modifiche alla struttura delle cuciture e dei pulsini, che migliorano l'aspetto e le prestazioni del capo. Non solo sembrano esistere da sempre, ma di fatto lo sono, e come molte cose che esistono da sempre le diamo per scontate. Ma siamo entusiasti dei nuovi arrivi e iniziamo a superare le precedenti. È proprio ciò che è successo con la 575. Per il 2013 abbiamo conferito alla felpa 575 con cappuccio un'importante novità. Abbiamo reso le maniche più affusolate e meno cascanti. La struttura della spalla è oggi più contemporanea. Abbiamo ampliato l'orlo rendendo la vita meno stretta. Abbiamo inoltre reso più ampi i polsini. Al cappuccio è stata aggiunta una cucitura superiore per fungere da guida alla culisse. La culisse stessa è stata modificata diventando più robusta, piatta e gradevole. Inoltre è stato migliorato il marsupio con impunture di rinforzo. E abbiamo aggiunto una fettuccia collo spigata, oggi standard Russell. Modifiche nei dettagli che, insieme, creano la nuova generazione di un classico di successo. Abbiamo anche raddoppiato la gamma colori, introducendo colori vivaci come Lime, Fucsia, Apple, Turquoise e molti altri. Il cliente dispone così di un'ampia scelta che consente alla 575 di essere combinata con altri capi, come le T-Shirt 150 e 155 e le Polo 569. Quando Benjamin Russell inventò la felpa, era in cotone 100%. Da allora la tecnologia delle fibre si è notevolmente evoluta, e le felpe moderne hanno il vantaggio di essere in cotone e poliestere. Per la nuova gamma Authentic Sweatshirt abbiamo scelto un tessuto ricco di cotone, con 80% di cotone pettinato e 20% di poliestere. Ma non è tutto. Queste nuove felpe utilizzano un tessuto specifico a tre strati. Lo strato esterno è in cotone pettinato 100% per un'ottima sensazione al tatto e un'eccellente superficie per la personalizzazione. Lo strato interno è un mix di cotone spazzolato e poliestere per un comfort e un calore senza uguali. Gli strati esterno e interno sono legati insieme da uno strato 100% poliestere, ed è questo terzo strato di connessione che offre la differenza evidente rispetto alle felpe a due strati di qualità inferiore. Separa infatti la superficie esterna più liscia da quella interna spazzolata, impedendo alle fibre interne spazzolate di passare all'esterno. Offre inoltre maggiore stabilità all'intera struttura, assicurando più elevate prestazioni al tessuto. Determina infine una sensazione al tatto più intensa e consistente. Il tessuto appare più pesante e lussuoso rispetto a un materiale a due strati dello stesso peso. Se aggiungiamo il cotone di alta qualità e i filati più fini, il risultato è il materiale premium di cui sono fatte le Authentic Sweatshirts Russell. C'è poi una nuova 262. La nuova 262 presenta un taglio dritto che conferisce un look più contemporaneo. Nuovo tessuto, nuovo taglio, nuove caratteristiche. La nostra Authentic Sweatshirt è una felpa tradizionale manica a giro ma con un design contemporaneo. Con un taglio dritto abbiamo aggiunto una struttura più ampia dell'orlo e polsini più larghi e comodi. Abbiamo ristretto le spalle e reso le maniche più affusolate. In breve la nuova 262 ha un look molto più contemporaneo e meno cascante delle felpe della generazione precedente. Abbiamo inoltre inserito una fettuccia a collo spigata e una cucitura supplementare su giro manica, polsini e orlo. Disponibile nelle taglie dalla XS alla 3XL. La nuova 262 sarà offerta negli otto colori della gamma base per uniformi. La felpa Authentic Hooded Sweat è più che una felpa con cappuccio. Il materiale Premium Authentic Sweatshirt, il taglio contemporaneo e la linea moderna rappresentano l'essenza di ciò che una felpa con cappuccio dovrebbe essere, un capo di stile creato per adulti studiato per il suo utilizzo. La 265 è disegnata con un taglio contemporaneo, una linea moderna, orli più ampi e comodi polsini. Abbiamo inoltre aggiunto finiture di qualità, nastro spigato interno collo in tono, culiss larghe e piatte combinate ad asole e finiture a costura intorno alla parte anteriore del cappuccio a doppio strato, passaggio per auricolari, costura supplementare su giromanica, polsini e orlo e le spalle rivolte anteriormente migliorano ulteriormente il look. La nuova felpa Authentic Hooded Sweat è disponibile in 10 colori che combinano i colori base tradizionali con tinte vivaci e contemporanee nelle taglie dalla XS alla 3XL. La 266 Authentic Zipped Hood è basata sullo stesso taglio e disegno della felpa 265 Hooded Sweat. Abbiamo aggiunto una zip intera YKK color ottone. La struttura a cerniera coperta offre una finitura più pulita e consente la personalizzazione sull'intero davanti del capo. Nelle taglie dalla XS alla 3XL, l'Authentic Zipped Hood è disponibile in 6 colori. La nuova gamma Authentic Sweatshirt è fedele allo spirito che guidò Benjamin Russell nella creazione della sua prima felpa. Ben Russell esigeva elevati standard nei tessuti, nel design e nella produzione e le nuove felpe Authentic Sweatshirt sono state sviluppate per soddisfare tali aspettative definite dal fondatore della nostra azienda. Il 2013 apre un nuovo capitolo nella lunga storia delle nostre felpe. Con la maggior parte della gamma nuova o notevolmente aggiornata presentiamo una grossa opportunità al mercato con tre gruppi di prodotti chiaramente differenziati. La gamma Hardwearing Sweatshirt offre alta qualità per utilizzi in ambienti di lavoro particolarmente esigenti e non solo. La gamma 50-50 offre i classici Russell in uno stile moderno, assicurando un'eccellente combinazione tra funzionalità e convenienza imbattibile. E la nuova gamma Authentic rivive lo spirito originario della felpa. Pensiamo che sia la miglior gamma che possiate trovare oggi. In fin dei conti, realizziamo felpe da più tempo di chiunque altro. I giubbotti sono parte integrante della gamma Russell. Sono combinabili con altri capi Russell, con corrispondenze di colori, taglie e qualità dei prodotti. La gamma di giubbotti Russell si divide in due categorie principali. Una per uso generico e l'altra costituita dai giubbotti softshell. I giubbotti per uso generico sono creati per offrire valore a un prezzo accessibile. Forniscono una protezione totale dagli agenti atmosferici, elevato comfort e un look attraente. Siamo stati tra i primi nel 2007 a introdurre i softshell nel mercato dell'imprint. Oggi costituiscono una categoria importante di prodotti per l'intero settore. La gamma Russell di giubbotti e gilet softshell è progettata per offrire ampia scelta per diversi utilizzi. Grande versatilità nelle versioni uomo, donna e bambino. I giubbotti 140 e i gilet 141 sono la scelta ideale per molte esigenze diverse. Un classico moderno. I giubbotti 520 Sportsshell sono creati per chi svolge un'intensa attività. Offrono un alto grado di traspirabilità e un taglio sportivo elegante e sono disponibili in versione sia da uomo che da donna. Lo 018 Workwear Softshell è specificamente creato per le esigenze di lavoro soggette a maggiorosura. La robusta superficie del materiale esterno, nonché le caratteristiche di taglio e disegno, sono pensate per offrire resistenza nei lavori manuali. La gamma Softshell offre una soluzione ideale per tutti. Dall'uso generico quotidiano, alle performance sportive, alle situazioni di lavoro. Utilizziamo materiali e disegni diversi a seconda della destinazione d'uso, ma tutti sono creati con gli stessi materiali prestati a tre strati, con una membrana impermeabile e traspirante al centro. 2013. Russell è nuovamente all'avanguardia nell'innovazione di prodotto. Questa volta, infatti, la categoria Softshell si presenta del tutto rinnovata. I giubbotti e gilet Smart Softshell sono un nuovo tipo di Softshell che si rivolge a un nuovo mercato e presenta nuove opportunità. I giubbotti Softshell che oggi conosciamo sono intesi per un uso outdoor. La membrana presente nei Softshell a tre strati assicura l'impermeabilità dalla pioggia e nel contempo un alto grado di traspirabilità. Fin dalla loro introduzione, i Softshell si sono posizionati non solo come capi outdoor, ma hanno anche sostituito le felpe come capi sia per uso esterno che interno. Ma in fatto di traspirabilità, il Softshell a tre strati è pur sempre un compromesso. La membrana è uno strato destinato a bloccare l'umidità dall'esterno. Ciò che la rende speciale è il fatto di consentire ad una parte dell'umidità del corpo di passare verso l'esterno, cioè il fattore traspirabilità. Le membrane rendono i Softshell a tre strati un'ottima scelta per gli usi outdoor, ma quando non c'è il problema della pioggia, un Softshell a tre strati può essere un compromesso non ideale. Smart Softshell è differente Smart Softshell è creato per essere indossato al chiuso e nelle aree che richiedono protezione dal vento e dal freddo. Nel settore dei beni di consumo, come vendita al dettaglio o servizi, così come nei trasporti quale treni o aeroporti, in logistica e magazzini, dove cioè siano usuali ambienti chiusi o semi coperti, in molte di tali aree la protezione dalla pioggia è meno importante, mentre una combinazione di elevata traspirabilità e protezione da vento e freddo diventa determinante. Ecco quindi ciò che offre Smart Softshell. Russell Smart Softshell presenta un Softshell pressato a due strati, cioè un Softshell senza membrana. L'unione dello strato esterno con uno interno in microfelpa consente protezione da freddo e gelo, protezione dal vento e soprattutto un elevato grado di traspirabilità. Smart Softshell trattiene il calore se chi lo indossa sta fermo, mentre mantiene asciutti quando si è fisicamente attivi. Come si presenta in dettaglio? Lo strato esterno è realizzato in tessuto Softshell a maglia, a differenza della maggior parte dei Softshell che sono invece tessuti. Il Softshell realizzato a maglia fornisce un alto grado di flessibilità e comfort in situazioni sia di bassa che di elevata attività, seduti o in piedi, in movimento o da fermi. Il micropile pressato offre calore in situazioni di bassa attività e traspirabilità quando si è molto attivi. La superficie esterna è trattata con una finitura a idrorepellenza durevole a marchio Teflon, che protegge dalla pioggia leggera. Tutti i capi Smart Softshell sono dotati di due tasche con zip, collo alto, passaggio per auricolari e lì dietro più lungo. I dettagli di finitura conferiscono un look elegante al capo. Le cuciture unite internamente alla zip evitano di impigliarsi e migliorano la vestibilità. Gli orli ampi e lisci offrono il massimo in termini di comfort look. Le cuciture anteriori sulla spalla migliorano l'aspetto e appaiono nascoste alla vista. Nel collo è presente una fettuccia di rinforzo posteriore. Le taglie disponibili sia per uomo che per donna vanno dalla XS fino alla 3XL. La gamma di colori combacia con quella della gamma base di uniformi per team. Il nuovo Russell Smart Softshell sarà disponibile per giubbotti e gilet in modelli corrispondenti per donna e uomo. Una gamma Softshell più forte I nuovi giubbotti e gilet Smart Softshell rendono ancora più forte la gamma Russell Softshell. Russell è stato innovatore decisivo imponendo la categoria del Softshell nel settore dell'imprint. Il nuovo Smart Softshell segue la tradizione, introducendo un nuovo concetto e stile che soddisfa le nuove esigenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.